20 agosto 1914. Don Giacomo Alberione fonda ad Alba, in provincia di Cuneo, la Società San Paolo. I membri di questa congregazione religiosa, meglio conosciuti come Paolini, si impegnano, secondo la volontà del loro fondatore Alberione, alla diffusione del messaggio cristiano, con l'uso dei moderni mezzi di comunicazione, fra cui l'editoria libraria, pubblicazioni giornalistiche, produzioni cinematografiche e multimediali. La Società San Paolo è presente oggi nei cinque continenti.